il progetto eldi offre sia l'uso di un computer facilitato e sia un software che consente un uso in italiano e in maniera semplificata del proprio pc scaricato il programma viene avviata una procedura di installazione guidata scelta la lingua italiana andiamo avanti eccoci al percorso guidato eldi è un'applicazione gratuita occorre dire sono nuovo per iniziare il processo di registrazione dove si può scegliere se si è principianti oppure esperti scegliamo principiante diciamo il nostro nome e cognome con la tastiera e andiamo ancora avanti qui si può scegliere la nazione ovviamente siamo in italia quindi possiamo proseguire poi ci viene chiesta la città dove viviamo l'indirizzo di posta elettronica su eldi scegliamo quello suggerito la password per accedere a eldi una potrebbe essere ovviamente la scelta della password è personale qui è tanto per fare un esempio e la configurazione è terminata ora si può usare eldi lanciato eldi ci si trova nella piazza la piazza è il punto di partenza in cui noi possiamo consultare la posta elettronica ci siamo appena registrati zero da leggere oppure passeggiare in internet fare chiacchiere andare al proprio profilo andare ai programmi televisivi o accedere a siti utili facciamo un esempio di una passeggiata in internet cliccando su questo bottone ci troviamo su portale di eldi il portale di eldi ci ha riconosciuto ci dà il benvenuto e ci suggerisce di fare ricerche oppure di accedere alle notizie oppure possiamo selezionare pagine di altri argomenti della salute oppure pagine della pubblica amministrazione per esempio volendo possiamo invece digitare un nostro indirizzo per esempio il portale di scarabeus che è all'indirizzo scarabeus it possiamo digitare l'indirizzo poi fare clic su vai e ci troviamo nel portale dell'associazione facendo clic su chiudi usciamo dall'applicazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti